Sanimed è un'azienda innovativa di sanitarie e di articoli in ceramica per il bagno. Sanimed è il numero uno in Tunisia nella produzione di sanitari con un'esperienza in questo campo di più di 20 anni. La capacità annuale di produzione di un milione di articoli stesa su una superficie totale di 80.862 m2, di cui una parte coperta di 42.000 m2, il tutto presentato con materiale ad alta tecnologia. Grazie a tutti. Sanimed si è distinta. Sanimed si è distinta sia nel mercato nazionale che internazionale. Sanimed risponde al bisogno di 150 clienti in più di 25 paesi nel mondo. Sanimed è presente sia nel mercato locale che in quello internazionale con articoli ad alta tecnologia che rispondono alle esigenze e alle norme internazionali come WC monoblocco, WC sospesi, lavandini da cucina in ceramica, articoli da doccia. E al redobagno con console. I vantaggi di Sanimed sono l'innovazione e la diversità dei prodotti, l'uso della tecnologia più avanzata e le materie prime di ottima scelta. Sanimed si è distinta. Sanimed si è distinta. Sanimed si è distinta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.